Vi ringrazio dell'ospitalità, vi dico che siete molto simpatici e che davvero è stato un piacere stare con voi, mi sono sentito tra amici e ci diamo un appuntamento magari tra qualche mese, vediamo se le nostre previsioni erano giuste o no, ma continuate così perché siete un bel gruppo.